Ricaricheremo lo smartphone con il nostro corpo? Amici di Come Don Kishot, ben ritrovati con il Tecno Ribelle, puntata numero 45, terza stagione. Era il 6 marzo del 1983. Si chiamava Motorola DynaTac, esattamente 40 anni fa, il primo telefono cellulare della storia, ingombrante come un mattone. Pesava addirittura un chilo, lanciato sul mercato americano per la stratosferica cifra di 4.000 dollari, l'equivalente dell'odierne 10.000 euro. Il primato seguiva l'invenzione di Martin Cooper, direttore della sezione ricerca e sviluppo di Motorola, un ingegnere che, davanti a sbalorditi giornalisti, già nel 1973 era riuscito ad effettuare col wireless la prima chiamata senza fili da una strada di New York. Da allora tanto è cambiato se persino l'idea di ricaricare il cellulare grazie alle microonde che viaggiano nell'aria è stata superata. Non avremo il fastidio di doverli ricaricare, sostiene Cooper, riferendosi alla prossima generazione di smartphone e al 6G dell'Internet of Bodies, perché il nostro corpo è un ricaricatore perfetto quando mangiamo, creiamo energia, no? E dunque perché non avere il ricevitore all'orecchio ricaricato direttamente dal nostro corpo? Già, perché no? 50 anni dopo dal primo squillo, intervenuto in questi giorni a Barcellona nel congresso mondiale della telefonia mobile, il padre dei telefonini ha ingaggiato una nuova sfida, puntando direttamente al corpo umano. La prossima generazione utilizzerà telefoni integrati direttamente sotto la pelle dell'orecchio, ripete Cooper, a 94 anni, propenso al salto evolutivo della specie, dalla scimmia al cyborg, perché gli smartphone del futuro saranno una serie di chip distribuiti nel corpo, magari dotati di sensori per tenere sempre sotto controllo i parametri vitali. Intanto però un colpo gobbo l'ha incassato il transumanista Elon Musk, il Tycoon della Silicon Valley, padrone di Twitter e Starlink, cioè il satellite 5G lanciati nello spazio per irradiarci ovunque dal cielo, a cui l'ente governativo statunitense della regolamentazione dei prodotti farmaceutici, la Food and Drug Administration, ha bocciato Neuralink. Il progetto è che per innestare il microchip nel cervello umano teorizza l'uomo internet nella connessione neurale, autorizzazione invece già concessa sia a Synchron che alla quotata al Nasdaq Neuro Peace, già operativa nell'esperimentazione in vivo con microconduttori elettrici nella testa di cavie. Il destino dell'umanità è quindi definitivamente segnato senza scampo con la quarta rivoluzione industriale finiremo tutti nel posto umano microchippati per vite da avatar, iperconnessi magari ricaricando col nostro corpo lo smartphone mentre invia dati ai padroni universali del grande controllo antropologico e sociale. Ci sono forze molto potenti che vorrebbero questo ma speriamo di no un po' come speriamo che io me la cavo perché non è detta l'ultima. Intanto domenica 2 aprile alle porte di Roma per la prima volta in assoluto docenti universitari di scuola, giornalisti, medici, specialisti, amanti della filosofia e pensatori liberi saranno protagonisti di Restiamo Umani Convegno Nazionale di Resistenza alla transizione digitale dell'Agenda 2030 il primo atto concreto per unire tutti i pezzettini del subdolo puzzle nella denuncia dell'antiumana deriva tecnologica mimetizzata sotto mentite spoglie tra fantascientifico progresso e futuro che prima non c'era. Per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G Salute Ambiente Geopolitica Privacy Transumanesimo Controllo Sociale Libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale Terra Nuova Edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.osisana.com ricordandovi come questa pillola tecnoscettica è condivisa anche sul media player Le Ali del Bruco Appuntamento alla prossima puntata del Tetto Noi Belle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci e un caro saluto a tutti e un caro saluto a tutti e un caro saluto a tutti di buoni Grazie a tutti.